Le Marche entrano in zona gialla, ma i contagi restano sostenuti. A Fano trovato e rimosso ordigno bellico sotto il ponte dell'Arzilla. La neve in bianca all'entroterra, 38 mezzi spargi sale in azione. Dopo 9 anni la VL conquista le Final Eight di Coppa Italia. Lunedì 11 gennaio, buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. Saluto come sempre anche tutto il popolo dei social network che ci sta guardando sui nostri siti, anche in streaming appunto nel nostro sito internet. Apertura del telegiornale dedicata al monitoraggio della situazione Covid-19 nella nostra regione. Le Marche infatti da oggi sono tornate in zona gialla, ma è una conquista che naviga a vista dell'andamento dei contagi, ancora purtroppo sostenuto nella nostra regione. Da oggi le Marche sono entrate in zona gialla, ma è una conquista fragile e che naviga a vista del prossimo andamento dei contagi. La discriminante per mantenere il colore di zona è infatti di 250 casi positivi a settimana ogni 100.000 abitanti. Le Marche a novembre viaggiavano a 297 casi, a metà dicembre sono scese a 153, ma ora si risale a circa 252 dopo una settimana da 3841 casi complessivi in regione. Troppi per la zona gialla. Oggi, come ogni lunedì, è risultata più bassa la cifra di tamponi processata nel weekend, ma si evidenzia un rapporto positivi testati pari al 28,9%. Insomma, è risultato positivo al Covid quasi un marchigiano su tre sottoposto al tampone. Nello specifico sono stati 333 i nuovi casi positivi su 1.151 nuove diagnosi per 1.927 tamponi totali. Ultima giornata che ha registrato anche 13 decessi. A preoccupare è però soprattutto il focolaio che da venerdì si è sviluppato all'ospedale di Urbino con diversi medici e infermieri positivi al tampone e la relativa chiusura dei reparti di rianimazione e cardiologia. Tant'è che i ricoverati non contagiati saranno ora trasferiti all'ospedale di Macerata Feltria e alla RSA Pesarese di Galantara. Intanto la regione si mobilita per attivare la protezione civile nazionale per l'invio di nuovi medici a supporto. Continuiamo a parlare del Covid-19 che si sta combattendo con l'introduzione dei vaccini. Anche ieri ad esempio a Muraglia si sono sottoposti alla profilassi più di 400 medici e operatori sanitari pesaresi. A breve toccherà anche alle altre categorie della cittadinanza. Argomento sul quale il consigliere regionale Andrea Biancani intende dare priorità alle persone disabili. Allora ascoltiamolo in questa prossima intervista. Proprio in questi giorni ho presentato un'interrogazione urgente che verrà discussa martedì in consiglio regionale dove chiedo una corsia prioritaria per le vaccinazioni sia per quanto riguarda i disabili sia per chi le assiste e le loro famiglie. Ricordo che le persone disabili sono sicuramente delle categorie più fragili, più esposte al rischio del contagio per diversi motivi. Innanzitutto perché molte volte, molto spesso, fanno difficoltà ad usare dispositivi e l'altra perché fanno difficoltà anche a rispettare quelle che sono le regole del distanziamento. Quando parliamo di disabili io mi riferisco a persone che hanno comunque non autosufficienti, che hanno necessità di un supporto. Persone ad esempio colpite dallo spettro autistico, intellettive, sensoriali, con problematiche comportamentali. Quindi tutti quei soggetti che per la natura del loro problema non riescono appunto a rispettare le regole come può fare chiunque di noi. L'estensione, la priorità, non è solamente rivolta direttamente a loro, quella che chiedo, ma anche ovviamente a chi le assiste, le loro famiglie, perché ovviamente si tratta di persone che svolgono una vita sociale, quindi che contattano, vengono in contatto con tante altre persone e quindi possono essere colpite anche loro, anche magari all'esterno, dal Covid ed è quindi la necessità di vaccinare anche chi gli sta a fianco per garantire appunto una maggior sicurezza del disabile stesso. In queste settimane devo dire che le associazioni a cui fanno riferimento questi soggetti, queste persone si sono date da fare, hanno sollecitato questa cosa e mi auguro che venga presa in considerazione. La norma oggi, il piano vaccinale, prevede che questo tipo di persone vengono vaccinate durante la seconda fase, seconda fase che durerà mesi ma che deve ancora incominciare, quindi quello che chiedo dell'interrogazione è di inserire la vaccinazione di tutti questi soggetti oltre alla linea della prima fase o se dovesse essere nella seconda fase che venga fatto all'inizio della seconda fase. È un segnale di civiltà, una cosa che dobbiamo sicuramente alle tante persone, alle tanti disabili che come tutti noi sono stati colpiti e molti di loro non ce l'hanno fatta. Un ordigno bellico è stato ritrovato questa mattina sotto il ponte dell'Arzilla a Fano. Si tratta di una bomba d'aereo lunga due metri risalente alla seconda guerra mondiale. Nel pomeriggio gli artificieri hanno provveduto a trasferire l'ordigno in una cava dove verrà poi fatto brillare. Allora vediamo questo servizio di Simone Celli. Il freddo, la fatica, i lavori che avanzano inesorabilmente. Tutto nella norma per una mattinata al cantiere in pieno inverno e invece no. All'Arzilla di Fano intorno alle 8.30 è accaduto l'imprevedibile. Uno degli operai impegnati nella realizzazione della vasca di prima pioggia durante alcuni scavi si è trovato di fronte a un ordigno bellico. Una vera e propria bomba d'aereo risalente alla seconda guerra mondiale di fabbricazione italiana, larga 20 centimetri e lunga ben due metri. Facendo questi scavi per gli ultimi collegamenti hanno visto un oggetto che è sicuramente una bomba, che poi si è rivelato essere una bomba. Non l'hanno toccato, hanno subito chiamato come prevedono le procedure i carabinieri. I carabinieri a loro volta sono intervenuti per interdire l'aria e per chiamare successivamente gli artificieri di Bologna che appunto sono intervenuti. Quindi è stato interrotto il cantiere e sono state appunto messe in campo tutte le precauzioni del caso. È ancora fresco il ricordo di marzo 2018 quando un altro ordigno bellico era stato rinvenuto in zona Sassonia. In quel caso però era stato necessario evacuare mezza città. Questa volta invece si è risolto tutto a tempo di record. Alle ore 14 dunque sono intervenuti, chiamati dai carabinieri ma soprattutto alla prefettura, il reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore i quali sono intervenuti immediatamente, hanno rimosso l'ordigno che evidentemente era un ordigno comunque grosso ma non pericoloso e quindi hanno portato poi l'ordigno in una cava a far esplodere in maniera tale in sicurezza, totale sicurezza ovviamente per loro e per tutti quanti e dunque alle 14.30 si può dire che il problema era stato risolto l'ordigno, non ci sono mai state interruzioni di traffico problemi vari se non interruzioni nel cantiere l'ordigno che era una bomba d'aereo di fabbricazione italiana era lì, non sappiamo bene perché, aspettiamo le indagini e le relazioni che ci manderanno i militari ma probabilmente era degno dell'attenzione che comunque gli abbiamo riservato ma non era pericoloso dunque tutto sommato questa vicenda si è chiusa bene molto meglio di altre situazioni che anche nella città di Fanno abbiamo avuto e a parte le nostre preoccupazioni giuste e l'attenzione che è stata messa nel rimuovere l'ordigno e comunque confinare l'aria possiamo dire che tutto si è risolto brevemente in sicurezza e soprattutto un ringraziamento va quindi ai carabinieri la prefettura ma anche al genio ferrovieri di Bologna dell'esercito italiano che ha permesso che tutto si potesse risolvere nel minor tempo possibile senza grossi problemi Ed ora passiamo alla cronaca ma rimaniamo a Fanno dove è stato arrestato un 25enne nigeriano residente in Emilia Romagna è stato arrestato per droga arresto nato dopo i recenti servizi di pattugliamento della polizia alla stazione ferroviaria di Fanno in cui gli agenti avevano notato la presenza di abituali assuntori di stupefacenti il motivo della loro presenza era riconducibile il ragazzo nigeriano in questione che abitualmente arrivava alla stazione negli orari di punta confondendosi fra i passeggeri per effettuare lo smercio illecito e risalire in fretta sul treno con la corsa successiva nella mattina di sabato però alcuni agenti si sono finti passeggeri e hanno identificato tre persone che avevano appena acquistato una dose di eroina dal pusher che ha reagito all'aguato spintonando un poliziotto per poi fuggire ma è stato bloccato e scoperto in possesso di 1.400 euro in contanti ritenuti provento di spaccio ed ora ci spostiamo a Montecchio è stata davvero brutta questa sorpresa di questa mattina nella chiesa appunto di Montecchio dove il parroco Don Marco di Giorgio ha evidenziato segni di effrazione nelle porte della chiesa e della casa parrocchiale da chiarire se si sia trattato di un tentativo di furto andato a vuoto fatto sta che non è stato rubato nulla al di là della sparizione di un mazzo di chiavi temperature sempre più rigide e neve che sta imbiancando colline e cime del nostro entroterra nel prossimo servizio allora vediamo qual è la situazione di precipitazioni e viabilità nel nostro territorio temperature sempre più basse e neve che continua a imbiancare le cime dell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino nel weekend e fino alle prime ore del mattino di oggi sono state imbiancate Carpegna, Monte Copiolo così come abbondanti sono state le nevicate sul Catre e sul Nerone neve a tratti anche Urbino e nelle zone dell'alto Metauro le precipitazioni hanno innescato la macchina operativa del servizio viabilità della provincia che ha messo in azione 38 mezzi per sgombero neve e trattamenti anti ghiaccio 12 sono sul Catria, 10 sul Nerone, altri 10 nell'alto Monte Feltro ad oggi tutte le strade della provincia risultano transitabili con pneumatici invernali ad eccezione della strada del Monte Petrano è stata comunque una nevicata annunciata e che ha coinvolto le zone sopra i 400 metri di altitudine diventando consistente sopra gli 800 metri tutto sotto controllo dunque per la macchina organizzativa della provincia intanto però la Coltrebianca ha avuto anche le sue prime ripercussioni il Comune di Cagli ha infatti deciso di chiudere le scuole per evitare qualsiasi pericolo relativo al ghiaccio sulle strade anche in considerazione dello stato di stress in cui versa l'ospedale di Urbino e siete davvero tanti voi che ci avete mandato nella giornata di oggi tante foto riguardanti la neve nel vostro comune, nel vostro territorio grazie quindi per mandarci sempre i vostri messaggi, le foto, i video al 370-366-7210 le foto che vi mostriamo ci sono state inviate da Erika Di Urbania che chiaramente ringraziamo che ci documenta la situazione nei dintorni della città Durantina e poi ancora da Ennio Di Piobbico che ci mostra il centro abitato e le antenne del Monte Nerone e anche da Tarcisio di Lunano con immagini che si riferiscono alla località al monte sopra la galleria Sant'Angelo Lunano delle spettatori che ringraziamo per il contributo e chiaramente vi invitiamo a continuare a inviarci queste testimonianze del territorio che saremo felici chiaramente di pubblicare nel nostro telegiornale San Costanzo è sempre più plastic free sabato l'amministrazione comunale del sindaco Filippo Sorcinelli ha inaugurato la casetta dell'acqua Cerasa installata presso il parcheggio degli impianti sportivi casetta che è ora a disposizione della cittadinanza per l'erogazione di acqua potabile controllata proveniente dall'acquedotto comunale parallelamente all'inaugurazione il comune ha donato agli studenti delle scuole 439 borracce termiche in acciaio per incentivare la diminuzione del consumo di plastica monouso l'autoclub storico Dorino Serafini ha partecipato ieri alla Befana dell'Asi autoclub storico italiano i soci del club hanno raccolto centinaia di prodotti alimentari di vario genere che sono stati consegnati a Casa Tabanelli la struttura creata dal Lions Club Pesaro con il contributo fondamentale di Eros Tabanelli indimenticato, imprenditore pesarese scomparso a causa della pandemia ricordiamo che Casa Tabanelli con il supporto della Caritas ospita persone indigenti aiutandole nel reinserimento in società ed ora andiamo a parlare dello sport perché è veramente un momento magico quello che la VL sta vivendo in modo particolare con questa nuova vittoria ieri infatti ha battuto Brescia alla Vitre Frigo Arena conquistando l'accesso alle finale di Coppa Italia un risultato che mancava pensate addirittura da nove anni vediamo i servizi mai così in alto da nove anni la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro vince 98-88 sulla Germani Brescia e conquista le finale di Coppa Italia splendido successo la Vitre Frigo Arena che vale il sesto posto in classifica e che consente alla VL di andare tra un mese al Forum di Milano ad affrontare Sassari nei quarti di finali di Coppa Italia una grande soddisfazione perché da primo giorno il nostro raduno è stato un sogno diciamo così raggiungere il Final 8 non un obiettivo perché l'obiettivo è salvezza per mille motivi ma un sogno perché siamo riusciti durante l'estate a fare una squadra partendo dalle persone da buoni giocatori una buona squadra una squadra che sta insieme bene con una giusta chimica che gioca bene bel basket e per questo veramente una grande soddisfazione vorrei fare complimenti ragazzi per una vittoria stra importante è veramente stra difficile perché di nuovo abbiamo avuto stamattina un problema con la schiena il nostro giocatore più importante è Carlos Delfino ma complimenti staff medico perché sono riusciti a metterlo a posto e ha giocato la partita vorrei dedicarla a questa vittoria vorrei dedicare ai nostri tifosi perché lo so che hanno sofferto tutto questo periodo per non poter starci vicino per sostenerci ma speriamo arriveranno questi giorni quando potremo andare avanti insieme chiaramente per essere aggiornati sul mondo del basket pesarese seguite il nostro programma tutti i giovedì sera alle 21.15 insieme a Canestro quindi esulta la Carpegna Prosciutto Basket esultano però anche Little Service Megabox e Alma Fano tracollo invece per la Visa la prima del 2021 nel prossimo servizio vediamo cos'è successo nel weekend di calcio calcio a 5 e pallavolo disastroso inizio di 2021 per la Vispesero Chialbenelli crolla 1-4 col Mantua e resta al quintultimo posto play-out a pari merito con Legnago partita compromessa sul nascere col Mantua che va sullo 0-2 grazie alla doppietta di Cheddira con l'evidente complicità del portiere Vissino Bastianello e al 23esimo è già 0-3 col fallo di Gennari su Cheddira che costa il rigore segnato da Guccione con lo stesso Gennari espulso per proteste cartellino rosso anche per il portiere Tozzo del Mantua e rigore anche per la Vis che De Feo però si fa parare dal subentrato Tosi ma Iachi ribadisce in rete sull'1-3 alla mezz'ora la Vis rientra in partita ma affonda dopo 12 minuti di secondo tempo con la doppietta di Guccione che infila in rete un tiro cross con altra responsabilità del portiere Bastianello nel post partita abbiamo ascoltato il centrocampista Tessiore fra i pochi a salvarsi non è facile prendere tre goli in venti minuti però è stata colpa nostra perché abbiamo approcciato la partita in modo sbagliato poi sono stati bravi a trovare il gol con Yassin sembrava potessimo riaprirlo poi secondo tempo è stato un po' più combattuto ma hanno avuto la meglio momenti di calo a volte all'inizio a volte dopo che purtroppo mischiate gli episodi perché oggi sono stati anche gol presi su episodio perché non abbiamo preso mezzo tiro in porta ci siamo fatti gol da soli e dobbiamo lavorare su questo sulle mentalità e stare 90 minuti concentrati Completamente diverso l'umore dell'Alma Fano che inizia l'anno alla grande espugnando 1-0 il nero e rocco di Trieste con una vittoria che fa salire l'Alma al terzultimo posto vittoria ancora più preziosa per il fatto che il Fano è rimasto in 10 sul finire del primo tempo per l'espulsione di Zigrossi l'Alma tiene e viene premiata dal gol di Ferrara a un quarto d'ora dalla fine Una partita da sofferta molto che poi causa anche l'espulsione però il grande merito dei ragazzi che anche in 10 abbiamo cercato sempre di andare a impensierire la Triestina che è una delle squadre più forti di questo campionato Vince e consoida il secondo posto in classifica l'Ital Service nel campionato di Serie A di Calcio 5 al Palanino Pizza la squadra di Coach Colini batte 8-3 la fail di Eboli in una gara mai in discussione coi pesaresi in vantaggio 4-0 nei primi 12 minuti grazie a due reti di Canal ha un gol di Marcelinho e a rigore di Cuzzolino sul 4-1 i tentativi di rimonta dei campani sono ricacciati indietro da altri due gol di Canal da Cuzzolino che firma la doppietta e c'è gioia personale anche per Taborda ora testa la Champions League con la trasferta in terra parigina e al settimo cielo anche la Megabox Vallefoglia che sale da sola in testa la classifica della Serie A2 di pallavolo femminile grazie al successo per 3-1 sulla Conad Ravenna e allora davvero tanti complimenti alle nostre squadre sportive vincenti del nostro territorio adesso andiamo a vedere quella che è la programmazione di questa sera su Rossini TV perché partiamo con uno spettacolo meraviglioso quello di palcoscenico Marche questa sera vi racconteremo l'oratorio San Giuseppe e l'oratorio San Giovanni di Urbino questa iniziativa questa forma di puntate volute fortemente dalla fondazione Cassa di Risparmio che come vedete supporta la cultura quindi non perdetevi la puntata alle ore 21.15 a seguire poi alle 21.30 altro format di grandissimo interesse che ha suscitato davvero grande interesse da parte di tutti voi che tra l'altro potete anche richiedere tutte le puntate delle stelle continueranno a brillare perché sono il racconto di Pesaro negli anni 1935 1945 ideate proprio da Gastone Mazzanti questa sera una nuova puntata non perdetevela alle 21.30 e poi chiaramente vi ricordo la nostra rassegna stampa se non lo sapete vi ricordiamo che la rassegna stampa la trovate tutte le mattine dal lunedì al sabato in diretta alle 7.20 in diretta chiaramente su Rossini TV e anche sulla nostra pagina Facebook o anche sul nostro sito internet se siete magari fuori regione e vi ricordiamo anche le repliche appunto del giorno stesso per vedere appunto la lettura dei giornali locali del nostro territorio ho detto veramente tutto grazie come sempre per la vostra attenzione noi ci rivediamo domani alle 7.20 appunto puntuali con la nostra rassegna stampa buona serata